Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le iscrizioni scadono il 6 novembre. Mi piace ricordare che quello di Prato è un polo universitario che funziona molto bene, dà molte soddisfazioni e ha dei laboratori di ricerca, sono circa 36 molto specifici, quindi è un polo che si distingue dagli altri. E in più la nostra città, che è un'anima manifatturiera importante, può essere veramente un utile riferimento per l'architettura nell'applicare proprio tutte le loro teorie relative alle residenze, agli spazi per le attività produttive, agli spazi per i servizi della comunità. L'arrivo al Pindegui percorsi universitari sarà anche l'occasione per riorganizzare internamente gli spazi del polo. A breve prenderanno il via ai cantieri per ridistribuire in modo più funzionale aule e ambienti comuni. I ragazzi lavorano in gruppo, quindi c'è bisogno di aule molto più grandi e allora di quattro aule ne saranno fatte due che permettono ai ragazzi di lavorare insieme. Però a me piace pensare, mi auguro che davvero succeda questo, che questo sia l'inizio di un restyling generale e il fatto che dobbiamo rimettere mano alla disposizione delle aule, credo possa essere per noi un motivo di ripensare un po' a tutto il polo e quindi renderlo molto più bello e molto più fruibile a tutti i pratesi. Trasporto pubblico scolastico a due settimane dal suono della prima campanella. Il presidente della provincia, Francesco Pugelli, dice abbiamo aumentato le corse ma gli autobus viaggiano vuoti, c'è ancora timore dei mezzi pubblici. A fine ottobre la decisione di ridurre eventualmente qualche corsa. Sentite. Gli autobus in questi giorni purtroppo viaggiano vuoti. Noi abbiamo investito aumentando le corse però probabilmente ancora c'è un po' di timore nell'utilizzare gli autobus. Noi abbiamo messo per esempio autobus doppi sugli orari di punta, abbiamo previsto gli autobus anche il sabato proprio modulandoli sulla base delle esigenze delle scuole con un occhio di riguardo per esempio qui al polo di Via Reggiana che è un polo frequentato da migliaia di studenti oltre prof tutti i giorni. Però questo timore probabilmente nell'usare gli autobus fa sì che gli autobus stiano viaggiando e però viaggino a scartamento ridotto. Gli investimenti con i soldi pubblici devono essere ben spesi. Quindi è evidente che in queste prime settimane dobbiamo dare il tempo anche alle scuole di potersi assestare. Quindi almeno fino a ottobre preferiamo sovrastimare la necessità e quindi far sì che qualche corsa arrivi sia vuota piuttosto che il contrario e quindi lasciare qualcuno a piedi. Però è evidente che poi a ottobre quando la scuola sarà entrata a regime tireremo una linea e a quel punto prenderemo delle decisioni insieme alle scuole per capire e eventualmente ridurre qualche corsa laddove effettivamente non si presenti la necessità. E torna il catechismo ovviamente in piena sicurezza nelle parrocchie della Diocesi di Prato. A tal proposito l'ufficio catechistico diocesano in accordo col Vescovo Giovanni Nerbini e con il supporto della Curia ha predisposto un protocollo di sicurezza denominato Sicuri dietro di me per lo svolgimento delle lezioni con i bambini e i ragazzi. Domani il Vescovo incontrerà i catechisti, l'appuntamento è alle 9.30 in San Domenico. Prima ci sarà un momento di formazione e alle 11 verrà celebrata la messa e sarà consegnato il mandato ai catechisti. E torna nel fine settimana la manifestazione Maiprato Urban Run, quest'anno con la formula della caccia al tesoro. Scopriamone di più. Sarà un'edizione speciale per la Prato Urban Run, quella in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre con sede operativa a Piazza delle Carceri, una vera e propria caccia al tesoro che potrà essere fatta a piedi o anche in bicicletta a gruppi di due, massimo cinque persone. A causa delle restrizioni imposte dal Covid, la corsa sarà proposta in modalità speciale. Il CGFS ha messo a punto una proposta alternativa di carattere ludico motorio capace di mantenere viva l'identità della manifestazione, ma organizzata nel rispetto delle prescrizioni nel momento. Penso che era importante rifarla, come la settimana scorsa abbiamo avuto altre manifestazioni importanti sul nostro territorio, era importante rifarla però proprio per dare un senso anche di normalità e di speranza e di fiducia per il futuro. E sicuramente anche quest'anno sarà qualcosa di bello e di importante. Con l'ausilio di una mappa e di una serie di indizi, i gruppi conosceranno e riscopriranno vari luoghi all'aperto del centro storico e delle immediate vicinanze in completa autonomia. Una volta iscritto il proprio gruppo, i partecipanti potranno ritirare il kit di partecipazione, composto da t-shirt, zainetto, mappa, indizi e istruzioni, nei giorni di sabato 3 ottobre dalle 9.30 alle 18.30 e domenica 4 ottobre dalle 8 alle 13.00. Si potrà partecipare sabato pomeriggio o domenica mattina. Non ci sarà bisogno, come gli anni passati, di prenotare il proprio orario di partenza perché ogni gruppo potrà decidere di partire quando vorrà. Per tutti l'arrivo è previsto in Piazza Santa Maria delle Carceri, quindi una volta finito tutto il percorso, trovati tutti i punti, la squadra dovrà ricarsi all'arrivo in Piazza Santa Maria delle Carceri e consegnare il foglio con le risposte perché una volta che si arriva nei punti ci saranno delle domande a cui rispondere, proprio come una caccia al tesoro. E ancora sport, il ciclismo, domenica a Bagnolo si corre la cinquantesima edizione della Coppa Sportivi, previsti 250 partecipanti, ce ne parla Massimo Biondi. Tutto pronto per le nozze d'oro, cinquantesima edizione della Coppa Sportivi di Bagnolo che andrà in scena il prossimo 4 ottobre. Non sarà valevole come titolo regionale toscano ma gli organizzatori hanno recuperato in ogni caso il titolo per la maglia di campione provinciale Pratese, allestite tutte le zone di competenza come norme anti-Covid. Due saranno quelle gialle, una presso il circolo Gelli per addetti e giuria, la seconda per i corridori in Piazza della Costituzione a Montemurlo, proprio dietro il comune. Quindi la zona bianca che sarà la sede di arrivo in via Labriola, mentre la zona verde in Piazza Aldobini sarà per l'organizzazione staffette, stampa e fotografi. Un grande lavoro quello di Riccardo Corsi e soci con l'impronta importante, chiaramente, del comune di Montemurlo che non voleva perdere questo grande appuntamento, anche perché sarà un'edizione da record. Previsti 250 partenti, assente il campione italiano, giustificato perché ha ricevuto una offerta molto importante dalla Svizzera e si è scusato con gli organizzatori di Montemurlo ma si è dovuto dirottare appunto oltre confine. Insomma, si aspetta per domenica un grande spettacolo perché il ciclismo a Bagnolo ha sempre raccontato pagine importanti e sicuramente le racconterà anche domenica. E adesso le previsioni meteo, come sempre a cura del Consorcio Lamma. Saluto a tutti, questa mattina immagine piuttosto eloquente dal satellite, una vasta perturbazione associata a un profondo minimo di pressione che ora è sulla manica. Interessa l'Europa occidentale e sta avvicinandosi al Mediterraneo centrale, porterà un peggioramento anche sulla nostra regione a partire soprattutto dalla tarda serata di oggi. Ecco la previsione per il pomeriggio e la sera, già qualche pioggia sui settori nord-occidentali, isolate brevi e deboli piogge sui rilievi meridionali, venti indeciso rinforzo da sud-sud-est con mari che da molto mossi tenderanno agitati soprattutto a largo e sui settori più esposti, l'onda da sud, cioè il Grossetano. Le temperature saranno in lieve aumento sui settori centro-meridionali della regione. Uno sguardo alla giornata di domani, vero e proprio peggioramento che transita tra la notte e la mattina portando delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, portando anche una rotazione dei venti a sud-ovest e forti venti un po' su tutta la regione tra la notte e la mattina. Nel pomeriggio tendenza a miglioramento con cielo parzialmente nuvoloso, sul centro-nord isolate e ancora deboli piogge sulle zone meridionali della regione, venti in attenuazione e mari che da agitati tenderanno a mossi o molto bossi. Bene è tutto, vi ringrazio l'attenzione e una buona giornata. È tutto anche per noi per questa edizione, il Tg torna alle 20.30 in diretta, buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.